Buongiorno, benvenuti, sono le 7.30, siamo in diretta, questa è FanoTV e la sua rassegna stampa che apre come di consueto tutte le mattine lo spazio dell'informazione nella nostra emittente. Occhio ai giornali, quindi giornali pronti, il resto è il Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico, però prima di guardarli, previsioni del tempo, è santo del giorno, oggi sabato 2 aprile, San Francesco da Paola, il sole è sorto alle 6.46 e tramonterà alle 19.37. Allora, vediamo, le previsioni per questo fine settimana iniziano all'insegna della variabilità, della nuvolosità, cielo parzialmente nuvoloso con nubi stratificate, se mettete la testa fuori dalla finestra potete constatare anche di persona, precipitazioni però sono date per assenti, le temperature in lieve diminuzione rispetto alle medie dei giorni scorsi. Per domani, domenica, il cielo anche qui si presenta sereno, poco nuvoloso per il dissolvimento delle foschie e debole attività cumuleforme sui sibillini, anche qui le precipitazioni non ci saranno, le minime in lieve diminuzioni ancora, quindi insomma si sarà un ribasso delle temperature. Vediamo il primo giorno della settimana che sta per arrivare, la prossima settimana, anche qui insomma cielo poco nuvoloso, nessuna precipitazione e le temperature però risaliranno un pochettino, quindi insomma un fine settimana tutto sommato che dovrebbe rispettare perlomeno dal punto di vista della pioggia, delle precipitazioni, insomma una tregua. Ok, guardiamo le pagine dei giornali, partiamo dall'evento che ha caratterizzato nella città di Fano la giornata di ieri, ossia la visita del ministro Alfano in una Fano blindata, il centro storico blindato, sin dalla mattina tombini chiusi, sigillati e cassonetti messi in sicurezza e cordoni e percorsi di sicurezza. Eccolo qua, la pagina del resto del Carlino, Alfano rassicura contro il terrore, se c'è da potenziare lo faremo, la promessa è quella anche di fare una concertazione sulla nuova questura. Centro storico, vi dicevo blindato, tutto sigillato, vedete qui nella foto l'arrivo del ministro degli interni tra il questore Laureola, Mirko Carloni e il sindaco di Fano, Massimo Seri. Presentazione del suo libro, Chi ha paura non è libero, questo è il titolo, dove parla appunto di questo fenomeno e di quali sono i risvolti nella società, nel mondo politico, nel mondo imprenditoriale. Incontro a Porfico, anche con i sindacati, sempre a riguardo della polizia, anche le marche ci sono obiettivi sensibili, ma l'aeroporto di Bruxelles, anche lui era super blindato, eppure è successo quello che è successo. E poi appunto, vi dicevo della protesta parallela dei sindacati, Fano ha difficoltà a garantire il 113, Fratelli d'Italia in polemica con Mirko Carloni, il SAP ruba a tutti la scena, i poliziotti in pensione non vengono sostituiti, questa è la protesta dei sindacati di polizia che chiedono più sicurezza, più mezzi e anche più uomini. La pagina di apertura dell'inserto locale del resto del Carlino parla anche di droga e web, ragazzini a rischio, dipendenze in crescita e spuntano anche i giovani interrotti, coloro che vivono solo al computer. Questa è una disamina fatta in base al rapporto sullo stato di salute della nostra provincia, presentato dall'area vasta 1 recentemente. Poi fotonotizia al centro, troppi mendicanti, si parla del fenomeno dei mendicanti nelle vie del centro, c'era l'ordinanza per arginare questo fenomeno, e pare che questa ordinanza non venga rispettata, non abbia sortito grandi effetti perché appunto il titolo è molto eloquente come prima. Anche qui la visita di Alfano, le marche, la situazione è sotto controllo e poi si parla di ospedale. Allora, vediamo questa ordinanza che pare non funzionare nel centro storico di Pesaro. Vie, negozi e portici piantonati dai mendicanti, commercianti e residenti chiedono più controlli. A poco più di un mese appunto dall'ordinanza è un viaggio, quello del Carlino, nelle zone del centro del mare più assediate dal fenomeno dei mendicanti. E poi il rapporto che vi dicevo, che è scaturito dallo stato di salute presentato dall'Asur, purtroppo un dato confortante è quello che ci si invecchia e ci si invecchia bene. Gli over 65 sono in crescita e godono di una buona salute. Il saldo negativo delle nascite però emerge questo dato preoccupante. Lo sballo è sempre più giovane, si abbassa l'età di accesso in questo vortice, in questa dipendenza da parte dei ragazzi. Siamo quasi veramente in età puberale, sono 13 anni, scuola media di secondo grado. E subito dopo con l'alcol, e subito dopo arrivano le droghe. Una vera piaga, ne parla in questo articolo la dottoressa Diotalevi, del Giovanna Diotalevi, che è il direttore del servizio di dipendenze patologiche dell'Asur. Insomma un allarme che è venuto fuori da questo rapporto. I genitori, dice il dirigente, portano i figli quando non ce la fanno più a gestire questa situazione. E forse magari sarebbe bene arrivarci prima. Queste sono le quattro piaghe, sempre più piccoli. Il bere dilaga, il consumo sconsiderato e smodato, insomma in crescita gli coma etilici. Droghe sintetiche, quindi mischiate anche alla marijuana. E anche il gioco d'azzardo, anche il gioco d'azzardo pare essere una piaga dilagante anche nell'ambito dei giovani, dei ragazzi. Andiamo nelle pagine di Fano, vi porto nelle pagine di Fano del resto del Carlino, dove si parla dell'ospedale, ospedale unico che deve venire prima il sito e poi i progetti. Questo è il parere del sindaco Seri, perché è una scelta da condividere con l'area vasta, quindi insomma con tutti i soggetti coinvolti in questo progetto. Ma l'opposizione è scatenata, la struttura sta chiudendo il primo cittadino. Per ora parla del niente, la struttura naturalmente di riferimento è quella dell'ospedale di Fano. L'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino parla di cronache e di arresti, in ricettazione due moldavi nella rete, segnalati alla procura dai carabinieri, scoperti a casa utensili rubati. Le indagini hanno portato a recuperare oggetti meccanici che erano spariti da officine e aziende nelle marche. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, cambiamo testata, anche qui sanità, il voto in Consiglio Comunale Unanime, centro-sinistra è compatto, ma è tutta una scena, dice Lorenzo Furlani in questo articolo, no a Fosso Segliore e Project Financing, avvirtimenti cifrati del PD al Sindaco, perché non forzi troppo. Ceriscioli poi risponde alla lettera del Sindaco Seri, risponde con un'altra lettera, secondo livello, però possibile un altro sito, questo è il contenuto della lettera. Nelle pagine invece di Pesaro, del Corriere Adriatico, si parla di parcheggi e attrezzature, l'estate sta arrivando e naturalmente incominciano a riemergere antichi problemi, consegnate le osservazioni sul piano spiaggia della provincia, Belloni dice sono indicazioni e non obblighi, maxitraffico di droghe, nei guai anche una ragazza pesarese. Continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, ritorniamo a Fano per un attimo, perché si parla della piscina, la piscina Dini Salvalai, anche questo un sito flagellato da diverse vicissitudini e si scatena la rabbia dei genitori perché la Sport Management ha smobilitato, ha portato via i phone, ma l'appalto non è stato ancora assegnato, quindi contratto scaduto, piscina chiusa. Però, insomma, abbiamo sentito l'assessore del Bianco che ci ha detto che a pochissimi giorni la situazione si risolverà. Alfano non è stata l'unica carica dello Stato presente nel nostro territorio in questi giorni, c'è stato prima la visita del Ministro Giannini al Museo del Bali e prima a Urbino e dice che Villa del Bali è un modello innovativo. Il Ministro Giannini, in visita a questo museo così bello, interattivo, prova anche l'emozione del Vortex Tunnel e quindi, insomma, un'attenzione crescente da parte dei componenti dell'esecutivo nella nostra provincia. Andiamo a Senigallia, come sempre facciamo, guardiamo anche che cosa avviene lì, l'estate si avvicina anche per loro e anche lì si inizia a prenderci un po' le misure. Un'estate senza V-Cumpra, relax prima di tutto perché taglio drastico alle vendite sotto l'ombrellone, i permessi passano da 80 a 20 e quindi, insomma, perlomeno da questo punto di vista i bagnanti saranno un po' più in scioltezza. Intanto, in spiaggia c'è linee blu di Rai 1, un bel palcoscenico per la città della spiaggia di Velluto. Insomma, nel corpo dell'articolo sui V-Cumpra si parla anche di cifre. I verbali del PD dice dal 2004 ad oggi, su un totale di 228 multe, solo 10 sono state pagate. È difficile effettivamente riscuotere, soprattutto da parte degli agenti, le multe elevate a queste persone che spesso non hanno fissa dimora, insomma sono difficilmente rintracciabili. Ancora, nelle piepagina per quanto riguarda Senigallia, segnalazione ai vigili e i parchi fanno il lifting, insomma, quindi aree verdi da ripulire, giochi rotti, interventi degli operai comunali per ripristinare e riportare, insomma, a uno stato di vivibilità i polmoni verdi della città di Senigallia. Andiamo nel messaggero, anche qui fotonotizia parla della visita del ministro degli interni a Fano, marche obiettivi sensibili sotto controllo, però si parla anche della movida e del braccio di ferro, perché lunedì il faccia a faccia tra i gestori dei locali e gli albergatori, il comune fa da mediatore, Viale Trieste è la zona calda e il presidente dell'APA dice regole sul rumore da rispettare e questa è l'annosa problematica di chi vuole un po' più di vita e di chi vuole invece il rispetto della tranquillità, insomma, bisogna trovare la media giusta anche in questi casi. Il meteo, Massimiliano Fazzini, sentenzia, cieli grigi ma niente pioggia, ma niente pioggia. E quindi, insomma, la visita del ministro Alfano ha un po' catalizzato l'attenzione della politica, insomma, dei quotidiani che si occupano di politica e appunto sensibili ma super controlli. Il titolare del Biminale è a Fano per la presentazione del suo libro, però il SAP dice servono più uomini e anche più mezzi per presidiare il territorio e la replica dice investite grandi somme, ha parlato di grosse cifre il ministro qui. E allora, la movida si allunga ma si cerca l'accordo, questo è l'articolo della prima pagina e appunto le zone sensibili sono quelle del mare e non ci, dice il presidente dell'APA, opporremmo a questo piano, però vanno appunto rispettate le regole del buon vivere civile per la serenità e la tranquillità dei nostri ospiti. Polmone Verde e il Miralfiore, quello a Pesaro, questo parco che va riportato anche qui a condizioni di vivibilità e di accettibilità perché devono essere i bambini, i presentatori di questo posto e non i tossici. Sicurezza al parco, l'opposizione porta il tema appunto in consiglio dopo l'arresto per spaccio di un giovane richiedente asilo. Quindi insomma questa è la richiesta virgolettata nelle pagine del messaggero dell'opposizione sul parco Miralfiore. Si parla anche del delitto di Ismaele, di Ismaele Lulli, che insomma continua nella sua evoluzione processuale, i legali di Iglimeta ieri in procura a Urbino per chiedere un supplemento delle indagini perché per loro non sono chiuse e quindi si scavi ancora il criminologo investigativo denti, tornerà presto a Sant'Angelo in vado per ricostruire la scena del crimine. La difesa perché insomma chiede questo? Perché punta a smontare la premeditazione e l'aggravante delle sevizie. Quindi si preannunciano tempi più lunghi. L'ultima pagina, quella del messaggero di Fano, tutta incentrata sul nuovo ospedale, nel suo corpo principale, prima il sito e poi il progetto, compreso anche quello di Chiaruccia, ha detto ieri in conferenza stampa Massimo Seri, anche se esistono in via ufficiosa dei progetti, esistono dei fogli, ci si lavora, certo, ma i progetti ufficiali vengono dopo aver individuato bene il sito. Quindi Seri vuole strappare una decisione politica sull'ubicazione. Questo è il suo scopo. Dopodiché si inizierà a parlare di progetti. Poi pronto soccorso, installata la pedana per disabili, via le barriere architettoniche. Quindi, insomma, questo è l'ultimo articolo che vi proponevo nella pagina del messaggero per l'inserto di Fano. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Termina qui la rassegna stampa di oggi. Naturalmente un saluto anche a tutti coloro che ci guardano in replica. Occhio ai giornali torna lunedì mattina, quindi puntualmente alle 7.30. Buon fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti.